Bene ragazzi, eccoci con un nuovo episodio di TELES of Arise, e dovevamo portare il Ambra cialetta? Kizára Ah, è vero, loro se ne dovevamo andare. Ma quanto è brutto! Perché forse deve morire? Non mi piacere, cosa mi piacere con tutto questo. Non mi piacere. Perciò, credo che è stato sincero su tutto ciò che ci ha detto. Ho conosciuto molte persone che combattano per liberare Danna. E ho avuto la stessa sensazione di Migal che ho fatto da tutti. Credo che possiamo confiarlo. Credo che sei anche una persona buona. Inoltre, potrebbe riportare su noi, e i GOLDUSKATS, certo? Cosa fa pensare che non mi piacerebbe? Perché è GOLDUSKATS. E questo è sufficiente per me per credere anche a te. Cosa fa pensare? Sono tutti così passivi? Ok, quindi dobbiamo andare alla locanda, andiamo alla locanda, fermiamoci sopra, vediamo quali sono i piani del fratello per rovesciare il regno, però non è che lo vuole rovesciare, vuole proteggere il lord. Ma ti dici che non puoi dormire? Oh, è Zare! Hold on, ha qualcosa che ha collegato con la sua colla. Oh, è Zare! Sì, questo è tutto. Allora, io prima di fare qualsiasi cosa vedrì che ho tutti gli oggetti a disposizione. Celatina alla mela, bottiglia della vita, celatina alla pesca ce l'abbiamo, potete ricomprarci un po' di roba. Vorrei rimanere senza e il piatto ce l'ho, anche se vorrei... Non so se conviene comprare... Faccio una nuova cena. Non ci sa mai. Allora... Ecco questa qui. Almeno i punti cura si dovrebbero ripristinare. Ok. Allora... ... 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 E poi l'uomo si uccide il Lord. E vabbè capita. Che fa questo scemo? No, mangio un frutto. E che sta andando? Ma magari c'è DGia. non è vero che c'è vicino a questo si doveva morire per far vedere che si moriva poi mangiando il frutto e quindi doveva morire comunque solo gli occhiali si trasformano in materia ma quando è brutto no 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 stop stop Bazzito questo? Perché non dice niente la maga di merda che sa tutto? Ma è controllato. Mi hai fatto incazzare. Niente, prende tutto come se non gli importasse niente. Non ci fa un attacco. 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 Oh! 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 Whoa! Blast! Oh! Oooo... Ma li sto parando tutti, eh... ecco perché c'è l'akisara si devono parare tutti sti attacchi non provo a chisara no and oh no 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 ma che è fatto assalto non so cazzo no 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 Grazie a tutti Oh, ti dà il tempo, diciamo Dovresti imparare le meccaniche Oh Eh, vabbè Troppo vicino Sono abituata a stare più lontano Oh, ti dà il tempo 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 Oh, mi sono bruciati tutti qua Oh, ti dà il tempo 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 Ok, sto facendo va sempre all'arte Eeeh vabbè. Eh pure il limite c'ha. Agora! Eeeh vabbè! Passa! Ma che ha fatto quindi? Ha consumato? Ma che ha fatto quindi? Ha consumato? No. Truth be told, I never wanted this. I never wanted to be a lord. However, competing for a position in the crown contest was required of me, and in the process, I took the life of a dear friend. The life I took and the bloodshed, the hatred that it earned me. It was far more than I could ever bear. I put the screams and tears of the slaves. They would reawaken my memories of that day. The memories of my friends' scream, and the tears of the one who mourned him. I couldn't take it any longer. Ah, quindi solo per non sentire... ...aggiant urlare, ha fatto... Sì, se no fa' che non si vuole a sentirle urla. Ah, meglio di niente. So, everything you've done... Precisely. It was simply to distance myself from all the pain and death, all for my own selfish ends. And if it made everyone happy in the process, then that was just an added benefit. Or, perhaps I... I truly did believe in those ideals at one point. But, living up to them was never my aim. It was just a lie that you've always championed. So, you're saying that everything you stood for? You're saying it was all just a self-obsessed lie? Tell me it isn't true, Lord Dovaline. Because... Because my brother... My brother believed in you and your dream. Forgive me. So, this? This is who you really are? Ok, amorla. Stop! Let go! Let me go! Let me go! Let me go! It's enough, Kisara! Let go! Stop! I'll tear him apart! I swear I'll... 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 Are you trying to ignore your brother's dying wish? He entrusted you with his dream! Just kill me. I'm nothing. I'm just a shell of a man now. I'm just a pitiful coward who shrank from his duties. I would only ask that you make it quick. Cioè, manco cosa da ammazzare uno così. Cioè, manco cosa da ammazzare uno così. I need you... To get out of my sight right now. Go. Before I change my mind. Uh... ... Oh... I... Oh I don't think so. è andata in modalità berserk. Non sentire una donna urlare, praticamente. Dio mio quanto è brutto quel bracciale. Eh, che ti devo dire? Non boh, che si fa? C'è un'unfinished business with Dohalim. C'è un mondo dall'alto che Balsef era. Non c'è bisogno di combattere, Xi'an. In case you've forgotten, I don't- Guys, guys! I think something's going on outside! Kisara! There you are! What's happening? Kelvilick ha iniziato un insurrecto. He's driving all of the Danans out of the palace! What? Has he lost his mind? What about Lord Dohalim? We don't know where he is, Captain. We thought- We thought maybe you would! No, I don't. I haven't seen him since we were inside the quarry. Damn. Well, either way, I wouldn't go near the palace. Any suspected Renan sympathizers are being arrested on site. This whole thing is a powder keg about to explode! Best prepare for the work! I guess not all of the Renans here like the idea of coexisting with the Danans after all. So this is it. This is the real Menans here. Are you giving up? On what? This realm is already finished. It perished along with my brother's dream. That's a shame. And I guess all the people who believed in that dream are on their own out there, aren't they? Not all of the Renans sided with Kelzalik. There's still hope, Kisara. Your brother's dream is only dead when there's nobody left who believes in it. Am I wrong? I'm going to the palace. I need to see what's happening there with my own eyes. What are you all doing? I thought it was pretty clear. We're coming with you. I appreciate the thought, really. But there's no need for you all to get involved in this. Tohalim said it himself, right? All of us. We're liberators. Thank you. Will things be okay in the city? I'm concerned about that as well. But for now, let us get to the palace. Right. We best clamp down on things of the source, but... We have to stop Sir Kelzalik. Don't you think it's about time you drop the sir? He always treated us Danans with such warmth and kindness. Forget about intentions. We should assume he's the one who's behind all these incidents. It's not surprising to me that there are Renans in Menensea who resent Dohalim. Yes. I suppose you're right. I guess all of us... Are you going to be okay? I don't know. But I definitely don't... Of course. Anyone who tries to oppress others is our enemy. And we... The fact the enemy's holing themselves up tells me they're not exactly happy to see us. And we better go and prepare for whatever. Oh man. Done. This is sure to give the others some much needed energy. That shit is right. I messed up. The fish flies with honey. Amazing. кон consisting of assuming yourесes. Oh yeah... Vediamo se posso comprare qualcosa di armo. Oh che figata! Oh, non ce l'ho! Oh, non ce l'ho! Andiamo al ranch che sicuramente sarò pronto e vestire da me. Comunque, già dalla seconda la storia è un po' così. Non mi sembra molto convincente. Oh, non ce l'ho! 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 Non ce l'ho! Non ce l'ho! Oh, non ce l'ho! Non ce l'ho! Oh, non ce l'ho! Oh! Oh, non ce l'ho! Oh! Oh, non ce l'ho! 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 ma ha fatto fallove se sta in riserva ho già fatto is that some kind of note the rebels left hey it mentions the release mechanism we're looking for right right so 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 Grazie a tutti. 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 Il tesoro non si apre ma manco se c'è una rivoluzione. Vediamo come sta storia qua che va avanti. Un campato in aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ebbene sì. Ebbene sì. Oh, ma qua ci vuole cos'è un diverino. Grazie a tutti. Il problema è che non mi posso spostare perché lei non stiva. Non so se sia meglio o peggio tenerla. Vai, sfondiamolo. Ebbene. 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 E questo. è... Ebbene. 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 ma te Grazie a tutti! 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 Abbiamo fatto fuori in un certo luna. No? Quindi lavorava per un altro lord? No? 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 Come sorride, è tutto contento. Eh, se non è andata un'ora fa. Eh, daje. Eh, si vanno dai, Kisara si deve stare. E negativa? Che cosa si fa? Che aspetta? Andiamo a prendere? Ok, andiamo a trovare Kisara ovunque sia. E in tutto questo otteniamo pure una ricetta che non c'entra una mazza con la storia comunque. Qu'è? 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 Questa è ora di pensare. Questa è il trono. Da. E apre. Maledetta. Tutto questo non c'è una missione possibile. Questa è una missione. Questa è una missione. Questa è una missione. Questa è un pozz parole. Questa è una missione. Questa è una missione. Questa è un pozzetto. Comunque questa parte è interessante perchè ci ha lasciato la strada aperta per un tronzo di lord che si è messo a fare. Vabbè, comunque voglio andare prima alla locanda. Allora, qual'era quello nuovo? Penino alla pancetta, non credo. Questo? Eh sì, il condotto di formaggio, questo qua, incremento più di combattimento ottenuto. Allora, come and eat. Qua di gelatino a me non tengo manco niente. Martello di dova. Allora, un chavo, ho fatto da. Qua, proprio sta di qua. Qua, proprio. 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 Grazie. 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 All right. I leave command of the gold dust cats in your hands. You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Looks like it's time to go. Take good care of Zare for me. All right, Lagiel? You've got it. Stay safe, Kisara. Let's go. Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Huh? Well, we certainly don't mind you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Magal died, I've been thinking a lot. About where I went wrong. What I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danon lives. But... We were naive. And short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be, that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that. Because of me. My brother. Oh no, it's true. Oh no, it's true. Maybe you're right. But in the end, it was me who entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free. Or gained without sacrifice. Now that I know that, I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Eldaman and Sia from outside the dream world. For the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity in my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service. No longer will I be defined by protecting a Renan lord. From now on, when I fight, I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part. That you fight alongside me. Not just for those who used to believe in your dream. But for those that still do. Dohalim. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well, this crew just gets bigger and bigger. All right? Where to, team? We make for Mahagsar. The valley of the four winds. I'm not ниver. I can't wait. I know, you're clear. You're too scared. We look at the ground. We do not believe that you do nothing. We don't think anything else? How? But we will, I don't know. We don't know. We don't know exactly what the reason. So. We don't think anything we can do. ma non ha fatto niente e cacchio un'altra B.A. ci è andato vabbè questi sono i DLC dei vestiti del lord e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi sarà? insegnami come pescare. Grazie a tutti. Quattrocento e quattrocento. Forse questi due posso fare. Quattrocento e quattrocento. Quattrocento. Quattrocento e 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 quattrocento. Simpatica Kisara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Bene ragazzi, io concludo qui questo video così che l'anno prossimo ci facciamo le missioni contro angolità e poi... ...andare avanti con la storia oppure... ...li formo un po' di più... ...mi sono sbloccati altri due personaggi ma me li provo un po'... ...tutto bene. Se vi è piaciuto quindi il video mettete un like... ...se volete vedere come va avanti la storia iscrivetevi al canale... ...alla prossima... Ciao ciao... ... ... ... ... ... ... ... ... ...